Signora Scuderi, interprete verdiana e puciniana, che ha un grandissimo... Venga qui vicino a me. Prego, signora. La signora mi è molto cara, anche perché è nel mio reparto. Infatti noi discutiamo, parliamo sempre di arte e di lirica. Cantiamo qualche pezzettino, accendiamo. Accendiamo, è sempre bello. Accendiamo veramente per tenere viva lo spirito. Ecco, simpatico. Non la cantate, signora. Ah, cavalleria, cantiamo, cavalleria, ma non... Eh, dipende, dipende dalle mattinate. La voce è proprio così. È vero, signora. Anche tu hai una bella voce. Una bella voce. La signora Scuderi è l'ultima delle romantiche. Sì, veramente. E beh, meno male che si sono arrivata, che ci sono andata dentro. Sì, veramente. E la cosa. Cosa cantate insieme? Ah, noi cosa cantiamo? Cantiamo tantissimo. Cantiamo Tosca, cantiamo Bohème, cantiamo Manon. La cavalleria. Sì, sì, la cavalleria. No, 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 no. No, 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 la cavalleria. La cavalleria. Non, 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 non. Eh, no, adesso non sono in voce. Non è in voce. Comincia lei. E che cosa? No, non. E' quasi quasi il meglio della falla. Buona man fruttiva. Quante misurria. Come mi aiutai. La, 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 la. Anche perché? Anche perché? Sempre con fei sincera la mia preghiera ai santi tabernacoli salì. Sempre con fei sincera i fiori all'altor nell'ora del dolore. Perché, perché, signore, perché me ne rimaneri così? Brava, bravissima, famolosa, veramente. Grazie. E' una piccola cosa, adesso io posso dire. Sì, questa era molto impegnata. Noi andiamo più sul leggero, anche perché le mie corde vocali. Sono limitate. Allora, da questa parte, ne? Sì. Au revoir. Arrivederci. Arrivederci.